La società ResiWorld è una nuova realtà nel settore dell'edilizia, che nasce dall'esperienza e dalla conoscenza dei suoi soci per i nuovi materiali. Commercializza e realizza un'innovativa linea di mate ecologiche per pavimenti e rivestimenti continui. L'azienda utilizza il sistema Arteviva, interamente progettato, sviluppato e prodotto in Italia con inerti naturali. Esso infatti non contiene sostanze tossiche e nocive permettendo di ottenere prodotti certificati e garantiti. Il materiale in questione è la biomalta. Essa viene installata dall'azienda ResiWorld, attività di Rodolfo Pinna, unica nel suo genere in Sardegna. Le biomalte non sono delle comuni resine, infatti sono prive di resine possidiche. È un materiale ecologico ed eco-compatibile, che può essere utilizzato per rivestire superfici continue, come pavimenti e rivestimenti decorativi, sia in ambito residenziale che pubblico. L'utilizzo delle malte eco-compatibili permettono il massimo della libera interpretazione creativa per la realizzazione dei tuoi progetti. La biomalta è un materiale ignifugo, traspirante, ingelivo ed antistatico, resistente pur essendo flessibile, refrattare allo sporco ed alle macchie, inoltre in prodotto particolarmente igienico e impermeabile. La superficie impedisce infatti l'anidarsi di batteri. Gli inerti che la compongono provengono fino al 40% da riciclo certificato. Essi inoltre può essere posata su qualunque tipo di superficie. Questo prodotto è a base d'acqua, inerti naturali e non contiene solventi, quindi è esente da gesso, cemento, calce e resine possidiche. Garantisce la qualità dell'aria negli ambienti e non ha impatto sul suolo. Garantisce la qualità dell'arriamo. E' ideale per realizzare rivestimenti con prodotti biocompatibili monocomponenti, esenti da solventi e pronti all'uso che permettono di ottenere effetti estetici particolari e personalizzati in tempi molto veloci. Risulta una soluzione ideale anche per realizzare pavimentazioni e rivestimenti su quelli già esistenti in buono stato, permettendo di risparmiare i suoi costi ed evitando i disagi dovuti ai lavori di demolizione e smaltimento. Le biomalte sono ideali per rinnovare i pavimenti in ambienti privati e pubblici. La Resiward, inoltre, fornisce al cliente un'assistenza attenta e qualificata in ogni fase della realizzazione. Si inizia con un sopralluogo effettuato dai tecnici dell'azienda per verificare la fattibilità dell'intervento. Il cliente viene poi seguito nella scelta della texture. La pulizia della biomalta è semplice e veloce. Il consiglio è l'utilizzo di prodotti naturali oppure neutri e poco aggressivi. Si consiglia una soluzione a base di acqua calda e aceto al 20-30-40% in base alla necessità e un panno in microfibra. Grazie al suo spessore di circa 2 mm possiamo realizzare rivestimenti in biomalta in superfici preesistenti senza necessità di demolizione. L'ultima frontiera del design raggiunta dall'impiego della biomalta è quella della realizzazione di mobili, in particolare quelli per arredo bagno e piani cucina. Ma come si applica la biomalta? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.